SIGNOR GIUDICE Voglio vedere una risposta a un ragazzino di 17 anni pieno d'armoni che non ti ascolto. Ma allora sii bravissimo, come fai? Sono stato educato bene. Tua madre è stata brava con te. Ma tu che vuoi da me? Non ti viene niente da dirmi? Mi viene da dirsi che tu una madre ce l'hai ancora. Hai già capito? Ma tu che cazzo sei? La madre e il prossimo te lo spari in bocca. Ma che fai cercando, Leonardo? Guarda, io voglio stare in mezzo agli altri senza che mi scassano la minchia. Hai mai sparato? Mi devi credere, io sto imparando a capire come funziona. Ma devi capire di cosa devi capire come funziona. Ma poi scusa, me l'hai insegnato tu? Se ti abbassano la testa, tu alzala ancora di più. Spara tu un cazzo! Solo un pazzo provrebbe a fottere a Rosi a casa. Io non sono un pericolo per tuo figlio, io sono un'opportunità. Voglio che lei abbia un futuro e con te c'è solo morte. Uccidi tua madre.